Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vedremo i pro e i contro di avere il cane in giardino. Prima di tutto bisogna vedere se è un giardino di erba vera o di erba finta. Partiamo subito con il difetto più ovvio, ovvero che se il giardino non è recintato per bene, il cane può scappare. Un aspetto positivo invece è che il cane può svagarsi, correre, cosa che in appartamento non potrebbe fare a questo livello. E inoltre ci sono tante cose più naturali, diciamo, che quindi sono più simili alla sua natura. Un difetto abbastanza comune è che i padroni potrebbero pensare che proprio perché il cane può già svagarsi non valla portato fuori. Invece no, perché sono due cose diverse e alcune volte quindi i cani ci rimettono perché poi non possono uscire di casa. Un contro è sicuramente il fatto che soprattutto se il cane è pelo lungo si sporca molto. Per esempio Cody ogni volta che fa soltanto un passo si riempie di fili di erba e qualunque cosa. Il cane può decidere di fare i bisogni in giardino e potrebbe quindi sporcare l'erba e che poi si dirada. Quindi sarebbe opportuno bagnarla non appena si nota che il cane ci ha orinato sopra di cerno. Un ultimo consiglio è quello di stare attenti soprattutto in estate col sole a non far prendere al cane i colpi di calore quando magari è anche solo. Adesso vediamo come può essere allestito un giardino perfetto per il tuo cane. Prima di tutto la cuccia, se il cane ci alloggia anche in inverno deve essere riscaldata. Bisogna inoltre stare attenti a piante e fiori velenosi. Proprio per evitare che l'erba sporchi continuamente il cane, alcuni padroni decidono di riempire una po' di tarea con sastrolini. Poi sicuramente ci può essere uno spazio dedicato ai giocattoli e magari anche una piscina per cani o per bambini, insomma se non viene bucata la resoglie. Passando invece alla vera e propria legge, una regola comune per tutte le regioni è quella di spazio che serve per questo cane. Il giardino non può essere inferiore a 8 metri quadrati e se non è possibile portare il cane regolarmente a passeggio, allora deve essere di 20 metri quadrati. Nel giardini condominiali i cani non possono essere sciolti, anche se sinceramente nel mio tutti i padroni li sciolgono sempre, io no perché ho paura a scioglierla e comunque c'è anche la legge, però più che altro perché ho paura a scioglierla. Questo video vi sia stato utile, lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao a tutti e bentornati!